L'Umbria si propone come modello il Laboratorio Nazionale per la Coalizione di Centrosinistra. Con un patto avanti da Perugia ha preso il via un progetto di campo largo in vista delle elezioni amministrative europee e regionali. Un primo importante step quindi, come è stato annunciato, del percorso voluto da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, PSI e movimenti civici di area, cui di recente ha aderito anche Democrazia Solidale e Demos per i prossimi appuntamenti elettorali. Un ottimo inizio è stato definito dai presenti, fra questi il segretario regionale del PD, Tommaso Bori, il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle, Thomas De Luca, il segretario regionale del PSI, Federico Novelli e il coordinatore regionale di Democrazia Solidale e Demos, Riccardo Vescovi. Tra i protagonisti e i relatori presenti all'incontro pure i deputati, Marco Saracino, del PD e Elisabetta Piccolotti, di ABS, l'ex presidente della Camera, Roberto Fico, Movimento 5 Stelle, il segretario nazionale del PSI Enzo Maraio, il presidente di Democrazia Solidale Demos Mario Giro e Gianfranco Mascia, portavoce di Europa Verde. Non un traguardo è stato sottolineato perché anche sul palco, in maniera simbolica, è stata lasciata una sedia vuota per chiunque si vuole unire. Ad un'alleanza è stato detto per cambiare e che è per tutti i cittadini e le cittadine dell'Umbria. Tutti uniti insieme al momento con contenuti e un manifesto che tocca vari punti, che patto avanti vuole sviluppare per la regione. Ancora nessun annuncio di nomi e candidati, ma al momento solo un progetto e un percorso programmatico, condiviso, ampio e plurale, anche se sullo sfondo c'è sempre il nome della sindaca di Assisi, la civica Stefania Proietti, presente all'evento. Dalle prossime settimane, è stato annunciato, si andranno a chiudere tutti i ragionamenti per i comuni al voto, a partire da quelli sopra i 15.000 abitanti in cui serve una coalizione e un'alleanza. E poi, dopo le amministrative, l'altro obiettivo saranno le regionali. Noi, è stato aggiunto, partiamo da una novità politica, quella che stiamo insieme dopo anni e che a livello nazionale incentiviamo. Una volta che si sta uniti, poi si trovano di conseguenza anche i profili giusti per vincere.